Io mi chiamo Giuseppe Floridia e sono il proprietario dell'azienda che è proprietario di Cantina Toscana. Cantina Toscana è una cantina un po' sui generis, che nasce come cantina sperimentale. Nel 2008 era la cantina sperimentale più grande del mondo, proprio realizzata da 13 produttori del Chianti Classico che avevano proprio l'intenzione di migliorare il processo produttivo. La mia più grande soddisfazione è che una cantina come Cantina Toscana, o come l'azienda Pazzec Toscana che esporta in tutto il mondo tecnologia all'avanguardia e praticamente il fiore all'occhiello del Chianti Classico ma della Toscana, dell'Italia, al servizio delle cantine di tutto il mondo, va a real, a mettersi in gioco e produrre un vino. Praticamente un'azienda che fa sistemi di controllo del processo, si mette in gioco e fa prodotti di alta qualità utilizzando le proprie tecnologie. Un buon vino è semplicemente qualcosa che mi riesce a ricordare, a riportare delle emozioni.